43 richieste di finanziamento approvate per un importo di 75.000 euro. Sono solo alcuni dei primi risultati del nuovo servizio di prestito sociale, cioè senza interessi, attivato all'inizio del dicembre 2013. Finanziato dalla Regione Toscana, il progetto Dare Credito all'Inclusione Sociale vede la Caritas Diocesana Capofila per i distretti sociosanitari di Arezzo e del Casentino ed è nato per dare un aiuto concreto a quelle famiglie residenti dei comuni dei due distretti che si trovano in difficoltà o in una situazione economica, temporanea e contingente che non consente loro di sostenere spese necessarie per motivi di salute o connessa alla situazione familiare, abitativa, scolastica, formativa o lavorativa. Tantissimi contatti ricevuti e colloqui effettuati dai centri d'ascolto. Le domande presentate alla Commissione in questi tre mesi sono state 43 per la zona di Arezzo di cui 30 approvate per un importo di 50.300 euro. Nel distretto sociosanitario del Casentino invece sono state presentate 17 domande di cui 13 approvate per un totale di 24.200 euro erogati. In termini percentuali le domande approvate dalla Commissione sono state il 71,67%. Le famiglie che hanno avuto accesso a questo prestito senza interesse si sono impegnate a seguire dei progetti personalizzati per favorirne la stabilità e il reinserimento sociale e sono costantemente seguite dai tutor che hanno costruito con loro dei rapporti di fiducia reciproca. L'importo massimo erogabile di 3.000 euro da restituire in un massimo di 36 mesi.